Buongiorno show e sono 13 mai come la guardi in questo momento sono molto Hamburger patatine andiamo per fare queste che il signori bisogna avere una certa prepotenza Concentrato sa Per me due li abbiamo c'è movimento lo vedo lo vedo lo vedo lo vedo Ma prima di andare avanti con il video ragazzi voglio ricordarvi che sul sito di level up con il codice Xiuderone avrete il 30 per cento di sconto su tutti i vostri acquisti Tra l'altro nel negozio è disponibile un gusto tanto amato dalla community il nuke dragon Con una veste tutta nuova lo avevamo visto nell'edizione della black week del 2021 Ed ha un sapore incredibile lici e lime ottimo per queste giornate calorose ed estive Codice Xiuderone ragazzi 30 per cento di sconto ma io direi di andare ad assaggiarlo immediatamente Se ancora non ricordate come si fa ve lo spiego io mezzo litro d'acqua Un misurino di prodotto shake 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 Ed eccolo qua ragazzi il nuke dragon il vostro prodotto è pronto per essere consumato Apriamo e sentiamo com'è Subito la nota di lime arriva immediatamente io me lo ricordo l'avevo già assaggiato In Germania sua level up all'azienda lo voglio riprovare ancora Eh sì ragazzi C'è poco da dire è un gusto estivo è davvero buonissimo Limone che si sente bene Lici che arriva in fondo e regala un po' di dolcezza Quindi un gusto da assaggiare dovete assaggiarlo ragazzi 30 per cento di sconto con il codice Xiuderone E ovviamente level up fatta dai gamer per i gamer E ovviamente level up fatta dai gamer per i gamer per i gamer E ovviamente level up fatta dai gamer per i gamer per i gamer per i gamer per i gamer e mazzo tutti figa in casa strutturato questo che god un momento lognomo assassino non posso fermarmi non posso fermarmi non ho tutta la vita ma non posso fermarmi molto velocissima crocevia momento 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 giusiche tre mesi pera pera c'è qualcuno che sta sparando non so dove andiamo andiamo ok 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 ormai ostacola l'obbio ostacola l'obbio impulso non le dà questo eccolo momento 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 solo due impulso potrebbe condannarmi questa cosa non posso più spingere non posso più spingere raga non posso più spingere raga molto più spingere raga let's go let's go ho fatto 16 kill ma ho eguagliato il record noi guagliati